Musica E' stato tamponato ed è finito nel fosso, accaduto oggi, giovedì 24 maggio, poco prima delle 18, in via Lenia San Maurizio Canavese. Una Fiat Punto, condotta da un uomo, si è fermata perché c'era un animale in mezzo alla strada. Un'altra vettura sopraggiunta è la tamponata facendola finire nel fosso all'autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, l'ambulanza dell'acqua c'è bianca volpianese e il soccorso del 118. L'uomo è stato ritrasportato all'ospedale CTO. L'uomo è stato ritroppo all'ospedale CTO.